Salve a tutti amici di CDK, qui la vostra Asker che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 12 novembre dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che CDK è da proporre. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale Principai di Twitch dall'undia a venerdì da 10.30 ai 13.30 e dalle 21 alle 23 per tanti giochi come Overwatch, Genshin Impact, Tetris 99, Dupanigo Isaac e tanto altro. Quindi iniziamo con il video. Il primissimo gioco gratis che presentiamo ancora per un giorno, quindi mi raccomando accorrete, è Dungeons 3 e lo stanno andando gratis sull'Epic Store e vi straconsiglio di giocare a questo gioco se volete provare un gioco di strategia e simulazione dove il protagonista è il cattivo ed è un gioco un po' diverso dagli altri, quindi davvero straconsigliato di provarlo e di giocarlo. Il gioco invece che sta andando a disposizione gratis per chi ha l'abbonamento a Xbox è Full Spectrum Water un gioco che io in questi giorni non conoscevo, sto iniziando a conoscerlo adesso ed è un gioco di strategia e d'azione militare che sembra comunque interessante, soprattutto se vi piacciono giochi di guerra, FPS del genere. Invece per chi ha l'abbonamento a PlayStation Plus stanno andando due gioconi, di cui il primo è Middle Earth Shadow War che è un gioco che ho già giocato in passato e vi straconsiglio di giocare se vi piacciono giochi d'azione, RPG, fantasy quindi assolutamente straconsigliato di provarlo e di giocarlo. L'altro gioco che stanno andando gratis con PlayStation Plus è Hollow Knight Void Heart Edition che è un gioco che assolutamente dovete avere nella vostra libreria e che assolutamente dovete giocare se non l'avete ancora fatto perché personalmente è uno dei Metroidvania e Souls-like più belli che ci sono quindi davvero straconsigliato di giocarlo e di provarlo. Per i giochi invece in uscita, domani uscirà Farming Simulator 19 Alpine Farming Expansion quindi l'espansione alpina assolutamente straconsigliato anche qua ovviamente se avete già il gioco Farming Simulator dovete assolutamente prenderlo anche perché sul nostro sito è scontato ma se non avete mai giocato a Farming Simulator potrebbe essere l'occasione giusta. Sempre il 13 novembre, cioè domani, uscirà anche Godfall che è un gioco d'azione e vedo anche role-playing che ha anche una grafica molto carina e interessante mi intriga alquanto. E anche il gameplay non è affatto male sono molto curiosa di giocarlo anche perché su uno suo sito è super scontato potrei anche provarlo su Twitch, chi lo sa. Sempre il 13 novembre uscirà anche un gioco nico e tutti stanno parlando ed è Call of Duty Black Ops Cold War so che un po' di persone, tra cui anche alcuni miei spettatori, lo stavano aspettando e quindi finalmente uscirà domani quindi resistete ancora un po' e mi raccomando anche qui compratelo su uno suo sito perché è super scontato. Invece un gioco che uscirà il 24 novembre è Football Manager 2021 che sicuramente conoscete se avete già giocato in passato giochi comunque sportivi, di simulazione e management in questo caso calcistici quindi assolutamente anche qua tenete d'occhio questo gioco su uno suo sito. Per i giochi invece super scontati, sempre a tema calcistico e sportivo stiamo dando super scontato, a poco meno di 10 euro eFootball Pass 2020 anche qui gioco sportivo di calcio che può essere anche se in single player che in multiplayer quindi se non avete giocato a questo capitolo di pass anche assolutamente è straconsigliato. Questo gioco io ve lo consiglio caldamente perché lo portai anche in streaming sul mio canale ed è Slay the Spire un gioco di carte e deck builder che io vi straconsiglio di giocare perché è stupendo poi ho messo anche qualche mod a tema Final Fantasy VII ovviamente però davvero straconsigliato di giocarlo e di provarlo. Altro giocore che dovete per forza avere nella vostra libreria è Crash Bandicoot questa volta tutta la trilogia completa ha poco meno di 15 euro quindi veramente è un prezzone che vi stiamo dando e vi straconsigliamo di giocare e di provare questa chicca questa perla videoludica assolutamente giocatelo. Come ultimo gioco invece che è anche qua straconsigliato di giocare è Borderlands 3 che è anche qui un gioco veramente che non potete non avere nella vostra libreria ed è il nostro fantastico gioco d'azione FPS RPG davvero straconsigliato di giocare mi raccomando. Ecco quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione del 12 novembre vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo nella prossima presentazione di giochi a presto ciao ciao ciao